Indossare un bichini per l'audizione di vicini di casa e fare cose che trovavo terribilmente autoconsapevole e dismorfico mi sembrava davvero terribile. E ho preso decisioni dopo di non fare quello, quindi andavo a fare un servizio fotografico. E non volevo indossare gli abiti, volevo coprirmi. E questo era un problema, così finivo per creare problemi. Quindi la pubertà per me è stata una lotta con tutto ciò che cambiava. Ma non posso nemmeno dire che fosse solo questa industria. Penso che quei problemi sarebbero stati presenti nella mia vita. Erano ovviamente peggiorati. Sì, penso che sia migliorato. Sono grato per questo cambiamento positivo nei confronti delle donne.